Un giorno di festa, come avveniva una volta, è il mercato agricolo che da 15 anni si svolge a Nebbiuno ed è in programma per domani, domenica, in occasione della festa di San Giorgio, la patronale del centro del Vergante. Un mercato agricolo che per le sue caratteristiche assume il valore di una festa che si svolgerà nel centro del paese dalle 9 del mattino fino alle 17. Un'occasione per stare a contatto con la gente di montagna, assistere a dimostrazioni di come vengono preparati i formaggi grazie al caseificio dell'azienda agricola di Paolo Tondina, uno degli ultimi alpigiane che lavora e resiste ancora al mottarone. Ma non c'è solo questo, saranno una ventina, forse anche qualcuno in più, i produttori locali che esporranno e metteranno in vendita la loro produzione, tutti genuini e davvero a chilometro zero, dai formaggi, come si diceva, alle varie qualità di miele, di selumi e altri prodotti della terra. Ci sarà l'occasione di scoprire un mondo ancora fatto di cose genuine, del come una volta che è ancora oggi però, con aperitivi e menù a tema. Sarà l'occasione per incontrare i titolari delle aziende, ma anche referenti delle associazioni come la CIA e la Coldiretti. Il grande spazio sarà riservato naturalmente ai bambini, non solo con giochi, stavolta moderni come i gonfiabili, ma anche con appositi laboratori didattici. Una giornata insomma all'insegna della natura, per riscoprire un mondo che ha ancora molto da dirci e, perché no, molto da darci.